Salve a tutti i matti delle storie e benvenuti in una nuova Rece Flash, quelle recensioni rapide e spoiler o meno a seconda di come mi gira. Questa sarà spoiler, oggi infatti parliamo della seconda stagione di Lock and Key. L'ho appena terminata e voglio darvi le mie impressioni a caldo. Parto con il dirvi che questa prima stagione mi è piaciuta, secondo me è una buona seconda stagione anche se continuo a preferire la prima. Preferisco la prima perché credo che abbia più mordente, l'essere totalmente ignari di che cosa sta accadendo e lo scoprire di volta in volta, misteri e chiavi, rende le dieci puntate della prima stagione davvero accattivanti. La seconda stagione comunque l'ho divorata in soli due giorni, ma con un andamento più discontinuo. Alcune cose infatti mi hanno convinta, altre meno. Tra le cose che mi hanno convinta meno abbiamo ad esempio l'eccessiva sovraesposizione, questo soprattutto nella primissima puntata. In questa puntata infatti sono affidati a Gabe tutta una serie di spiegoni a favore di pubblico, come ad esempio perché non si trasformano nei Lock, in che cosa Gabe è diverso da Eden, qual è il suo piano e come si creano le chiavi. Sono tutte cose che ci vengono spiegate e che si dicono ai personaggi tra di loro quando in realtà teoricamente non avrebbero bisogno di spiegarsi le regole del gioco. L'impressione è stata quasi che gli sceneggiatori volessero rispondere alle domande sollevate dai fan in questo modo. Non mi sono piaciute nemmeno alcune scelte narrative, come perché Bodhi non dice mai a Kinsey delle strane visite di Gabe, anche solo per vantarsi di quanto si è divertito, oppure perché non usano la chiave della memoria su Nina non appena la trovano, o perché non la usano subito sia Tyler che Jackie. Insomma, chi sceglierebbe di dimenticare la magia? Che senso ha? Posso capire, anche se non la condivido, la scelta di non avere niente a che fare con la magia, ma dimenticarla secondo me è semplicemente stupido, perché comunque le cose brutte continuano ad accadere e anzi, come abbiamo visto in questa seconda stagione, essere ignari non solo non aiuta, ma ti mette anche in pericolo. Una cosa su cui questa serie vince sempre, secondo me, è il sistema magico e le chiavi, sempre bellissime, sia visivamente proprio come sono fatte, sia i poteri che donano. Adoro infatti del sistema magico che escluda la magia dalla mente degli adulti, è un'idea alla quale sono molto legata anch'io, e ho adorato vedere nuove chiavi all'interno della trama. Mi è piaciuta particolarmente la prima puntata, perché mostra le chiavi nella vita di tutti i giorni, ci fa vedere come sarebbe la vita dei ragazzi solo con gli aspetti positivi della magia. Sono felice che si siano viste nuove chiavi, che ci sia il potenziale per vederne sempre di più, visto che i ragazzi hanno scoperto di essere in grado di crearne di nuove, e mi piace che essendo le chiavi un oggetto esterno, e quindi non essendo la magia insita nei protagonisti, questa possa essere usata praticamente indistintamente da tutti i protagonisti, quindi non solo dei lock. Questa è una cosa che mi piace molto. Mi è piaciuto bene il fatto che le chiavi si facciano trovare nei momenti più opportuni, è una cosa che non è stata spiegata, è come se le chiavi avessero una sorta di coscienza, che però sembra benevola, a differenza di quella dei demoni che escono dallo stesso luogo. Sono contenta che ci abbiano mostrato qualcosa in più sull'origine delle chiavi, peccato che non possa dire altrettanto sui demoni. Restano infatti dei villain privi di reale spessore, vengono dal caos e sembrano guidati solo dalla voglia di conquista. Peccato, mi piacerebbe sapere cosa muove questi personaggi, anche perché soprattutto la rappresentazione di Gabe fa sorgere tutta una serie di domande. L'attore che interpreta Gabe fa un buon lavoro e il personaggio è altrettanto buono come villain, anche se non sfrutta al massimo le potenzialità. Ho trovato Gabe barra Dodge più efficace nella prima stagione. La cosa è spiegata anche a livello narrativo, sembra che Gabe si sia in qualche modo infatuato di Kinsey, peccato che questa cosa non abbia molto senso. La domanda infatti che sorge spontanea è questi demoni quindi possono provare dei sentimenti? Cosa li muove? Non ci viene spiegato. Da una parte ci vengono rappresentati come esseri malbaggi, privi di qualsiasi scrupolo, e la cosa viene confermata anche in questa seconda stagione perché fanno delle cose orribili. Dall'altra parte però provano dei sentimenti che sembrano umani, derivano dalla parte umana, quindi dalla parte di coloro che hanno posseduto, o è qualcosa di insito nel demone stesso? Non lo sappiamo. Ho trovato pazzesca la performance dell'attrice che interpreta Eden, dopo l'uscita di scena di Gabe speravo potesse essere lei la nuova Queen, invece ha dovuto rievocare quel vecchiaccio che sarà una grana non da poco nell'eventuale terza stagione. Anche perché da alcune linee di dialogo abbiamo visto che il demone che ha posseduto quel vecchio sembra essere un pezzo grosso nel loro mondo, e anche qui, quindi c'è una gerarchia? Spiegate qualcosa insomma! Gli altri protagonisti mi sono piaciuti più o meno tutti. Dei tre fratelli, quella che ho preferito è stata Kinsey, mentre nella prima stagione avevo amato principalmente Bodhi, in questa seconda stagione l'ho trovato un po' sotto tono come personaggio. Mi è piaciuto invece l'arco narrativo di Kinsey, come ha reagito alla manipolazione di Gabe, e tutto l'arco che l'ha portata alla consapevolezza finale. Mi è piaciuto anche che abbia riassorbito la sua paura, tornando ad essere completa. Tyler forse tra i fratelli è quello che mi è piaciuto meno, non mi è piaciuta neanche la scelta di andare via, non so se vogliano proprio liberarsi del personaggio, o se eventualmente tornerà, vedremo. Mi è piaciuta molto la linea narrativa di Nina, il fatto che finalmente alla fine abbiano deciso di ridare la memoria a questa povera donna che continua a sentirsi pazza e non lo è. Mi è piaciuto vedere un adulto coinvolto, quindi il personaggio di Duncan, finalmente coinvolto nella creazione della chiave, e non solo, anche nelle dinamiche, diciamo, magiche dei ragazzi, stessa cosa per Erin, che, poverina, ha un destino disgraziato, peggio di quello di Sirius Black, veramente una vita di merda povera. Non ha avuto particolari picchi di emozione in questa seconda stagione, tra i momenti più emozionanti nell'ultima puntata, sicuramente l'incontro tra Lucas e Ellie e i ricordi di Nina, che sono stati veramente carini da vedere. Quindi tirando un po' le somme, a livello di gestione delle dinamiche e dei misteri, trovo che la tensione sia stata alta finché non hanno rivelato l'identità di Gabe, quindi finché Gabe non viene scoperto, da lì la serie perde un po' di mordente. Anche tutta la questione della chiave che trasforma le persone in demoni non è stata, secondo me, sfruttata a dovere. Potevano infatti potenzialmente trasformare tutta la città, o anche solo gli stessi amici, il che avrebbe creato dei conflitti non indifferenti, soprattutto al netto del fatto che questo processo di contaminazione è irreversibile, e invece hanno scelto una via più semplice. Capisco perché, però non l'ho trovato particolarmente efficace. Per quanto riguarda gli effetti speciali, ho trovato la CGI un po' ballerina, ci sono dei momenti in cui funziona altri molto meno, la CGI della catena è orrenda. Belle però le musiche. Questa era una cosa che mi era piaciuta molto nella prima stagione, e ho ritrovato anche qui veramente delle musiche molto carine. Concludo perché altrimenti non è più una resce flash, questa seconda stagione mi è piaciuta, l'ho divorata bene, potevano fare qualcosina in più, però comunque promossa. Bene ragazzi, adesso tocca a voi, fatemi sapere se avete visto questa seconda stagione, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, mi piace discutere con voi. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa perdere al prossimo video, e ciao! Ciao!